Ricordiamo che in console abbiamo un talento, un grande talento, sono in 19 anni, credo, se non sbaglio, sono Mario Johnson, direttamente Dall'Elia 18 freschi freschi, non solo DJ ma anche producer E ovvio, il giocatore può sentire un po' tutti i gusti stanotte Però voglio già sentirvi carichi, lo so che siamo un po' stanchi ma so che siete i numeri 1 e già mi vedo pronti La S Hey Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.